ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di senti che bottas di un fine settimana quello di jedda dell'arabia saudita che ci ha fatto discutere ci ha fatto accendere gli animi per tantissimi motivi diversi partendo dal fatto della questione della sicurezza con la questione dello stabilimento aramco bombardato dai missili e continuando sempre con discorsi veramente accesi tutto il fine settimana su quanto fosse giusto andare continuare a questa questo fine settimana appunto in un posto che sicuramente non garantiva la tranquillità come stesso hanno detto i piloti al termine della giornata di venerdì sera nel loro comunicato stampa detto questo una gara sorprendente possiamo dire sia per la quantità di ritiri sia per il rovesciamento finale del podio all'ultimo perché abbiamo come vincitore Max Verstappen seguito con grande orgoglio di noi ferraristi da Charles Leclerc e Carlos Sainz che di nuovo sono sul podio per la seconda volta in questa stagione Hamilton l'abbiamo praticamente visto svanire nel nulla partire dalle qualifiche considerando che l'ultima volta che si era qualificato esclusivamente per per l'EQ1 senza proseguire oltre era in Brasile nel 2017 per cui di strada ne ha fatta e questo è stata è stata veramente una batossa perché ricordiamo Hamilton ieri si è qualificato solo sedicesimo detto questo tante cose interessanti questo fine settimana tra le quali una ass tranciata in due quella di Mick Schumacher durante le qualifiche per fortuna sembrerebbe star bene attendiamo le novità e ovviamente oggi però non ha potuto correre né lui né un terzo pilota perché non avevano una macchina pronta da da sostituire per cui oggi gara eccezionale abbiamo un corso con 19 piloti anziché 20 già da qui c'era qualcosa di destabilizzante che poi in realtà erano 18 perché se no da mezz'ora prima della gara ha visto il suo motore andare in fumo all'improvviso ed è il secondo motore o meglio è il secondo weekend in cui un motore Red Bull powertrain sta avendo problemi e prende fuoco ma diciamolo esatto va in fiamme non solo perché in realtà Tsunoda ha sostituito la power unit in seguito alle qualifiche perciò ha dato un doppio DNS non è qualificato né è partito per la gara perciò l'affidabilità del motore Honda qua veramente vacilla perché siamo solamente la seconda gara abbiamo visto tantissimi ritiri solamente in due gare sì il ritiro non è stato solo quello di Tsunoda l'abbiamo visto abbiamo visto un ritiro da parte di Fernando Alonso che stava facendo un'ottima gara si è completamente bloccato in mezzo alla pista così come Ricciardo così come tanti altri perché i ritiri sono sono fioccati tanto è vero che sul traguardo sono arrivati soltanto il 14 se mi ricordo bene esatto partendo dal fatto che due di loro non avrebbero corso comunque però come gli altri ritiri sono stati notevoli le Williams diciamo che potevano fare di meglio soprattutto la Tifi che ha fatto un errore da principiante con cui ha portato la macchina al muro e si è dovuto ritirare però è stata comunque una statistica molto alta quella di oggi a livello di problemi veramente con il motore problemi che paradossalmente le case madre le case madri non hanno riscontrato però cioè almeno la scorsa volta della Redwood Power Power Training aveva portato problemi sia ad Alfa Tauri sia alla Redwood questa volta invece no se proprio vogliamo dirla in realtà per quanto riguarda Renault Alpine l'unica squadra quindi per certi versi sì ma a parte quello hai ragione a parte quello sono tutte squadre clienti ora va bene la Tifi non è stato problema di motore è stato solamente un problema di sovrasterzo non si è capito come abbia fatto tutto il weekend a guidare con una macchina che non aveva praticamente un posteriore perché in qualifica è entrato in curva in quella chiamiamola parabolica ha perso subito il posteriore appena è entrato un pochino in curva oggi è l'ultima curva stesso discorso devono trovare un pochino di equilibrio e poi anche l'altra Williams quella di Albon non ha materialmente finito la gara per l'incidente dell'ultimo giro il dive bomb che ugualmente lì sarà valutato probabilmente come un 50 50 perché uno ha stretto troppo l'altro ha staccato dove non poteva staccare assolutamente però anche lì non sono sicuro della buona scelta dei piloti da parte di Williams e anche della vettura stessa che sembra veramente aver fatto un passo enorme indietro una volta che Russell ha lasciato la squadra quindi era veramente Russell che ha tutto il potenziale mi pare un po' difficile però i dati questo dicono sebbene non ci siano stati problemi in casa Red Bull a livello di motore per fortuna è stato un peccato perché Sergio Perez che ieri ha conquistato la prima pole della sua vita e ha fatto segnare due nuovi record in realtà uno l'ha fatto segnare lo scorso anno di maggiori gare e corse prima di vincere che sono state 190 per lui e maggiori gare e corse prima ancora di ottenere la pole che sono state 19 aveva dimostrato di avere tutto il potenziale e non sappiamo bene dove si è persa tutta questa storia abbiamo visto che però non era un problema di scuderia perché comunque la scuderia ha fatto di tutto per agevolare i piloti parlavamo anche prima della gestione gomme no? Assolutamente sì Perez ha un pochino perso nella trappola tesola Ferrari con il rientro il lato ferrarista dice finalmente ne abbiamo azzeccata una il lato più oggettivo dice è stata una bella trappola e Perez poi ha avuto la grande sfortuna della Virtua Safety Car e conseguente Safety Car per la Tifi però in generale passo la vettura ce l'aveva veramente questo weekend tanto che Verstappen è arrivato al traguardo in testa per cui Perez forse ha perso un po' di fiducia con il fatto di dover ripartire il problema che c'è stato fra lui e Sainz per cedere la posizione e non cedere la posizione è stato un weekend bello ma allo stesso tempo che ha preso una brutta curva negativa con appunto il problema Safety Car e da lì secondo me non ha più avuto lo stimolo per rispingere veramente al massimo ha forse deciso di andare in modalità gestione vettura. Eh ma diciamo che in un circuito come quello di Jagda la Safety Car è la cosa che devi prevedere dalla curva 1 al primo giro fino alla curva 23 dell'ultimo giro quindi non sai che ci sarà sempre è stato un caso che ci sono stati così pochi in realtà. Io onestamente mi aspettavo molti più incidenti magari la gara scorsa ci ha segnato in maniera negativa con duemila ripartenze incidenti alla prima curva o comunque scondri persone che sono andate lunghe in seguito a delle battaglie abbiamo visto dei lunghi alla prima chicane ma non credo che tutti i piloti siano comportati piuttosto bene anche con la gestione degli spazi rispetto a di loro durante le battaglie. Mi chiedi da Alonso e Ocon. Giusto Alonso e Ocon che con i loro alpin a parità di macchina hanno battagliato per tutta la prima metà della gara quando poi non lo so il motore di Alonso ha deciso di abbandonarlo. Cioè battaglia era entusiasmante dove ho visto Ocon forse un pochino scorretto in alcune difese soprattutto di fronte al compagno di squadra. Beh io sostengo quello che ho sostenuto prima mentre guardavamo la gara cioè per me Ocon si è semplicemente comportato da Alonso nei confronti di Alonso. E Alonso si è comportato da Ocon quando ha fatto il sorpasso lasciando molto spazio all'interno. È stato l'Alonso più corretto che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Per carità è stato molto corretto recentemente. Non andiamo a rimangare anni passati tipo 2007 cose simili perché non sarebbe corretto. Mi riferivo tranquillamente allo scorso anno dove faceva un bel po' di waving per non farci spazzare. Cioè l'Alonso di quest'anno tra virgolette l'Alonso maturo è maturo anche in pista e si comporta veramente bene. Ha un po' preso se vogliamo alcune componenti di chimie. Forse essendo la persona più vecchia della griglia mi ha fatto venire un po' di sale in testa. Ma comunque Ocon e le vetture rosa. È proprio costante. Ricordiamo Perez Ocon a muro con la Refinkold rosa. Siamo tornati con una vettura rosa e di nuovo per poco non finivano il scontro fra di loro. Secondo me gli succede qualcosa tipo i tori con rosso. Esatto. Nella prossima gara torneranno a blu. Nella prossima gara torneranno a blu. Forse hanno fatto bene a valutarla in questo modo. Visto come stava andando. La strategia appunto che abbiamo detto di gestione gomme volevo piccolo applauso a Red Bull perché hanno visto che loro sul dritto andavano. Molto più sul dritto che sulla parte guidata del primo settore. E hanno detto giustamente a Verstappen di non spingere troppo perché poi avrebbe avuto il vantaggio nel finale. Cosa che effettivamente è stata. E poi il bloccaggio a ruote fumanti all'ultima curva. Curva 27 di entrambi i piloti per non dare il DRS. Non penso che la vedremo mai in alcun'altra pista o una cosa del genere. No, davvero. Veramente no. Però è stata veramente entusiasmante. È stata veramente entusiasmante e il flat spot alla fine che temevo mentre in Bahrain un flat spot molto più piccolo di quello che Verstappen aveva faceva molti più danni. Questa volta è sembrato sparire subito per cui per certi versi forse anche la Pirelli ha rivisto un pochino il discorso mescole. O la pista che è completamente diversa dal punto di vista dell'asfalto e quindi lo ha abraso in maniera diciamo meno rilevante. A me è interessato molto in realtà appunto la strategia di fronte alle battaglie. Se vediamo persone, cioè piloti che tendono a evitare l'attacco rispetto al rivale evitando semplicemente il DRS, mi chiedo come possa essere lo sviluppo del campionato in circuiti come Monza dove non puoi fare molto per evitare un sorpasso in rettilineo. È bene che queste macchine abbiano i loro vantaggi in fatto di scia, ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo, ma mi chiedo come cambi l'approccio della difesa durante le battaglie da un pilota o un altro. C'è molto da cui pensare da questo punto di vista perché le battaglie sono comunque piuttosto facilitate dalla presenza di rettilineo. Siamo ancora troppo dipendenti al DRS per vedere battaglie in pista. Ancora non siamo arrivati al punto in cui possiamo volirlo. Ci arriveremo perché se questa è la stampa che vuole prendere il divertimedia ci arriveremo. Però ancora dovremo tenercelo. E' un bel po' immagino in realtà. Temo, temo. Siamo giunti al nostro momento allora, sì o no? Sicuramente sì. E top e flop, iniziamo da Fabio. Top Red Bull. Red Bull, anzi Red Bull e Ferrari. Entrambe perché hanno fatto entrambe ottime scelte di strategia, hanno fatto veramente divertire in pista battaglie e quant'altro. È stata una delle gare più belle come il Vareino, ma questa la metterei quasi a un livello appena appena superiore, non per il risultato diverso, che comunque mantiene una buona differenza in campionato, ma per la battaglia in pista vera e propria. Erano ruota a ruota. Verstappen ha mancato il muro di un foglio come spessore, per cui hanno entrambi dato tutto e infatti si vedeva la stanchezza, per esempio, di Leclerc. Flop direi in parte Mercedes perché, sì, è riuscita a recuperare un po', però ancora ha un divario troppo troppo grande, nonostante delle scelte che hanno fatto. E mi sorprende invece la scelta di non far partire Hamilton dai box per cambiargli l'assetto, perché è arrivato decimo per miracolo, perché si è ritirato qualcuno davanti, altrimenti non ce l'avrebbe fatta. E Flop ugualmente direzione gara e FIA, in realtà su questo, per il discorso Virtua Safety Car. Non è possibile che in Virtua Safety Car ci sia il discorso del gap. Mettete un limitatore di velocità come esiste in tante altre serie, in Formula E, per citarne una, in cui non possono andare oltre quella velocità a una velocità sicura, si può fare tutto tranquillamente e nessuno guadagna nulla. Punto. Faccio io? Allora, nonostante sia assolutamente d'accordo con il grande top di Ferrari e Red Bull, perché non ci hanno fatto solamente divertire in pista, ma a me hanno fatto divertire anche sulla carta. Ieri in qualifica era tutto quanto incredibilmente inaspettato. La Poli Perez è stata comunque giocata sul filo dei centesimi. Era veramente molto emozionante vedere quattro piloti inizia per la pole position e alla fine far spuntare, far vedere spuntare Sergio Perez solamente all'ultimo giro. Io però forse un po' controcorrente dire che il top della giornata che mi ha molto sorpreso è stato Russell. Perché, sì? Me l'hai rubato! Ok. Perché con la stessa macchina di Hamilton, intanto è arrivato in cutare con un ottimo piazzamento. Abbiamo visto dichiarazioni che dicevano che in realtà l'assetto delle macchine non era poi tanto diverso, perciò se Russell ci ha riuscito non so cosa mancasse a Hamilton durante la gara. Lui ha semplicemente fatto l'unico sorpasso che doveva fare su Walk On per accorarsi ai due top e chiudere la gara senza top e la mentele prendeva tutti i punti che poteva. Certo, la mia cede è stendietro, ma per quanto mi riguarda questo è un ottimo lavoro da parte sua. E se vogliamo parlare dei flop, a me sconvolge veramente la gestione dei motori di Red Bull, perché non vedo come possa essere possibile che un pilota non faccia né le qualifiche né la gara per via di un problema al motore, con due motori diversi. Qualcosa che dovranno risolvere se vogliono arrivare in fondo al campionato? Per che punti iniziano ad andare a pesare? Io per rivendicare il mio Russell che mi è stato rubato dirò Norris, perché Norris ha dimostrato di avere una macchina abbastanza poco affidabile sinceramente, comunque si è portato a casa una settima posizione tranquillissima, considerando che i quattro davanti a lui appunto erano i due top team, quindi più di tanto non avrebbe potuto fare. Direi che in realtà ha fatto un lavoro discreto, forse un po' anonimo. Sono state in realtà carine le battaglie dove si è ingaggiato sia con Gasly sia con Ocon. Se la regia ce l'avesse mostrata di più sarebbero state anche più godibili. Quindi non lo so, senza niente a me e senza lode, però volevo giusto variare un pochino la situazione. E flop in realtà sono veramente indecisa, potrei dirvi Latifi, potrei dirvi Joe, potrei dirvi Hamilton, potrei dirvi davvero qualunque cosa, direi che... Vuoi dire Alfa Romeo? Esatto, perché io volevo dire Alfa Romeo perché è veramente inaccettabile che i meccanici non si rendano conto di aver sollevato la macchina prima dello scadere di 5 secondi, così come non è possibile che Bottas stava facendo una gara comunque buona e all'improvviso viene ritirata per delle cause ancora a noi, niente e probabilmente anche a loro, perché chiamare technical issues, facendo un public statement, non credo che dimostri la loro conoscenza del problema e anche lì è grave, perché mi rendo conto che non nasciamo con la scienza infusa, ma loro dovrebbero capirci qualcosa, considerate che la macchina è la loro, ci hanno messo le vani d'oro, la sviluppano loro, sono capito, dovrebbero... Sono ingegneri con un certo livello di conoscenze. Non è che so Gigino che passa in mezzo alla strada, forse qualcuno dovrebbero... Forse Gigino... Probabilmente più di noi tre messi insieme le capiscono, però... Quindi non non saprei, ma io sono curiosa di sapere quali sono i top e flop dei nostri ascoltatori e vi invitiamo a dichiararlo qui sotto nei commenti e quindi niente, noi salutiamo i nostri ascoltatori dicendo che il prossimo Gran Premio sarà appunto la domenica 10 aprile, noi non saremo in silenzio fino a quel momento, abbiamo un Raw Seek da riprendere, una storia della Formula 1 da raccontare, quindi cercheremo di essere più puntuali possibile con le nostre pubblicazioni e chissà che nel frattempo non esca fuori anche qualche nuovo contenuto, qualche nuova rubrica, questo ce lo dirà il tempo. Wink wink, wink wink. Va bene, grazie a tutti per averci ascoltato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!